Non vorrei dire che l'avevamo detto, ma secondo me nei vecchi video ce l'eravamo detto. Amiche e amici e belle persone in genere, bentornati su Secondo Tava. Oggi per un nuovo video ho fatto un attimino mordi e fuggi perché è un periodo dove sono molto piena e tirata tra le cose da fare perché sto anche facendo la recensione di Starfield per Spazio Games, quindi su quella ci leggeriamo su Spazio Games nelle prossime settimane. Però oggi sono arrivate delle novità che erano nell'aria, nel senso che sapevo che sarebbero arrivate, relativamente a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 che vi ricordo esce alla fine di ottobre. Perché? Perché c'è stata la possibilità di mettere le mani sul cofanetto dei giochi, sono arrivati nuovi dettagli che purtroppo sì, confermano il bello del fatto che questi giochi stanno tornando, però confermano anche alcuni dei timori e delle perplessità che avevamo espresso nel video precedente dove parlavamo del prezzo, ossia che è più che altro una macro operazione molto pigra per rivenderci giochi che non erano più disponibili a 19€ a botta ciascuno, oppure a 60€ il pacchetto completo. A cosa mi sto riferendo? La prima cosa che vi dico è che è stato confermato che sarà anche su PlayStation 4, quindi eravamo tutti molto perplessi dal fatto che fosse solo per PC, per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, è stato confermato durante l'evento e poi anche su PlayStation Blog che la Master Collection sarà anche su PlayStation 4, tuttavia non è da dare per scontato che esca insieme alle altre versioni, perché per il momento Konami ha detto che non sa stimare di preciso quando dovrebbe uscire quella, quindi sarà anche su PS4 sì, però non sappiamo ancora quando arriva. Quella che mi ha colpito di più però è stata l'anteprima, ce l'ho qui davanti che è il motivo per cui sto registrando seduta davanti al PC, è stata l'anteprima fatta da Nintendo Life, che ha messo sul piatto, come dicevo, in modo molto candido, il fatto che questi porting siano porting, punto, anche se sono venduti a un prezzo che in alcuni casi sarebbe stato più da remaster, perché loro sono specificamente orientati sul mondo Nintendo, mi metto gli occhiali, scusate se passo da 34 a 64 anni solo col gesto di mettermi gli occhiali, Qual è il punto? Che loro, parlando con Konami e poi hanno anche ricevuto conferma via mail, hanno saputo che su Nintendo Switch il gioco girerà a 720p bloccato a 30 fps, ok? Mentre la versione HD Collection, che è quella che loro includeranno per MGS2 ed MGS3, sono nella versione dell'HD Collection identica, girava a 60 sulle console dell'epoca, mentre su Switch, a quanto pare, è stata bloccata a 30. Questa però non è la cosa ancora più spinosa, secondo me, al di là del fatto che sì, è appetibile giocare su Switch, fa un po' pensare però che giochi così vecchi, stiamo parlando di 2001 e di 2004, non riesce a farmele girare, passi nei 720p che comunque importatele su Switch, lo schermo va a 720p, però davvero non riesce a farle arrivare a 60, mi sembra più che altro una roba super pigra, però vediamo. Quello che mi ha lasciato ancora più perplessa è il fatto che, vi traduco letteralmente quello che scrive Nintendo Life, abbiamo chiesto in merito alle performance di PS5, Xbox Series S e della versione PS4 appena annunciata. Konami ha specificato che questi giochi punteranno alla stessa risoluzione di 720p e a un framerate identica a quello della release HD originale. Questo significa che l'idea di Konami è far uscire questi porting, nell'epoca del 4K, a 720p e 60fps sulle console domestiche e a 720p e 30fps su Nintendo Switch. Adesso, chiariamo una cosa, io sapete benissimo che non sono una che si attacca al dettaglio grafico, non mi interessa, un gioco passa da 30, perde qualche frame, qualche drop, passa 27, per me non è una roba che compromette l'esperienza. Però qui stiamo parlando di riproporre dei grandi classici, non rifacendoli perché non hanno mai parlato di una rimasterizzazione, però io penso che almeno portandoli a un livello di decenza minima, un full HD, perché qui non arriviamo neanche al full HD, io penso che avrebbe avuto senso. Invece così si vede proprio in modo palese, secondo me, che Konami abbia fatto il minimo, minimo, minimo sforzo, la pura conservazione a prezzo piuttosto caro, perché se me lo importi a 720p, cioè siamo nell'epoca dell'HD Ready, mi stai dicendo in tutti i modi che tu non ci hai proprio messo a mano, e a tal proposito Nintendo Life aggiunge che addirittura nel menu c'era l'icconcina Copyright Konami 2012, cioè ti hanno proprio detto candidamente che loro hanno preso l'HD Collection e l'hanno sparata dentro questo cofanetto. Questo mi lascia perplessa per la pigrizia, sono contenta per il ritorno, sono perplessa per la pigrizia, perché così è stata confermata. Altra cosa che è stata confermata e che quindi vi riporto in questo video è che i giochi funzioneranno praticamente come dei compartimenti stagni, ossia vi faccio un esempio, se voi comprate l'HD Collection in effetti aveva senso, se voi comprate la Master Collection vi compare un'icona per ciascuno dei giochi che scegliete di installare, quindi ci sarà l'icona di MGS1, l'icona di MGS2, l'icona di MGS3 e quella dei contenuti bonus. Nel caso specifico di Nintendo Switch è stato precisato che sulla cartuccia troverete MGS1 e i contenuti bonus, mentre MGS2 e MGS3 vanno scaricati a parte. Infine, ultima cosa interessante che ho trovato negli articoli che sono arrivati oggi con i provati, è che è stato aggiunto un disclaimer iniziale che dice che questi giochi sono concepiti in un'epoca diversa e quindi potrebbero avere una sensibilità diversa da quella odierna, ma che si è scelto di non apportare modifiche per preservare la visione dell'autore, autore che non viene nominato. Secondo me anche perché non avevate sbatta di modificare niente, però mi sbaglierò. Sono sicuramente robe come l'uso delle sigarette, seguiremi riguardandole il fondo schiena, battute infinite in merito, correre per vederle in mutande, le inquadrature su IVA, le inquadrature su Sniper Wolf, robe del genere, perché la battutina fa ridere una volta, però erano molto reiterate, come sappiamo. Quindi giochi che vengono da un'altra epoca, ovviamente visti oggi, potrebbero scatenare delle polemiche, quindi ha aperto questo ombrello del disclaimer iniziale Konami per dire lo sappiamo, questa è l'opera originale, ve la stiamo riproponendo così com'era. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché ribadisco, io sono molto contenta di questi ritorni, però anche molto perplessa dalla gestione, perché veramente lo state facendo con due dita mentre sonnecchiate e a questo punto mi domando anche come riusciranno nell'ipotetico e penso scontato volume 2 a tirare fuori Metal Gear Solid 4 da PS3, se già non vi siete presi neanche la sbatta di far scalare almeno al vero HD un Metal Gear Solid 3 Snake Eater o un Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ho un po' paura di questa pigrizia e di cosa potrebbe venire fuori con questa pigrizia. Fatemi sapere però voi cosa ne pensate, io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania, se preferite Tava, ci vediamo presto su Secondo Tava. Grazie a tutti.